Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono code per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 1 e Prato Est in direzione Pisa. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e in Cisareggiello in direzione Roma. In A12 attenzione al personale sulla strada per lavori tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Spostandoci sulla Fipilicode in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Veicolo fermo in avaria tra Vicarello e Lavoria in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze fino al 15 dicembre restringimento di carreggiata e revoca della corsia preferenziale in Viale Pieraccini nel tratto da Via Cosimo il Vecchio fino all'ospedale Meier. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!